La politica non può aiutare questa situazione, questa era l'azienda che doveva salvare il paese e l'occupazione, questi sono i risultati, 29 lavoratori senza stipendio e senza lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza cassa integrazione, ha la fame, questo è inaccettabile. La politica non può aiutare, non può aiutare, non può aiutare, non può aiutare.